E' arrivata la signorina Caterina, avvocato. E' arrivata in compagnia. Non mi fida di nessuno di loro. Io non le riconosco! E se io fossi l'assassina? Lei che... che mestiere fa? Cioè di cosa si occupa? Scrivo gialli. Ah, scrive gialli. Eh, bene. Eh, allora... Prende appunti, no? Scrivevi al nostro canale.